Scusate, ma la vostra amica pazza vestita da fuori di testa deve continuare a girare per casa? Per favore, non farmi passare da mostro. Volevo soltanto che avessero una vita semplice, serena. Non so più cosa pensare. Non so chi siamo e cosa siamo. Nessuno ci sta cercando. Sì, ma perché nessuno sa che esistiamo. Quando durante la guerra inizierono a deportarci, io sono stato preso e deportato in un campo di stegno. Tra i prigionieri, ce n'era uno che veniva considerato speciale. All'arresa di Hitler avrebbero dovuto sterminarci tutti, ma l'ordine tardò ad arrivare. E ne approfittai per scappare. Ma non da solo. Pensa solo a guardarti le spalle dei nemici. E da quello che è il peggiore fra tutte le creature esistenti. Gabriel. Alzati. Il vostro dolore è grande, ma necessario per la buona sorte di tutte le vostre discendenti. Promettetemi che questa è l'ultima volta che venite qui per vederla. Promettetelo. Io non voglio essere più forte, io voglio essere quella che sono sempre stata. Con lei che vedrà il giorno nero del teschio, diverrà il ponte fra i due mondi. E otterrà la chiave per svelare il segreto. Noi siamo figlie di Magdala.